Spezza una lancia a favore dell'intelligenza artificiale che ultimamente se ne sta parlando quasi con timore. Sicuramente la nomea che negli ultimi decenni hanno dato libri fantascientifici e film non è delle migliori, ma ad oggi non è assolutamente nulla di male, soprattutto nell'ambito video e soprattutto nell'ambito video su smartphone. Quindi riesce a dare un approccio semiprofessionale agli utenti direttamente dal proprio device, dal proprio telefono, se non direttamente dall'app. In questi ultimi anni sono nati addirittura social network dedicati unicamente ai video, faccio l'esempio di TikTok. E in questi ultimi mesi queste piattaforme stanno già sviluppando dei sistemi di editing e di montaggio video direttamente sull'app, sfruttando anche l'intelligenza artificiale. Questa, se ci pensiamo, è una cosa straordinaria. Fino a solamente dieci anni fa servivano computer potentissimi, adesso grazie al nostro telefono riusciamo a fare cose meravigliose. E questo offre l'opportunità a tantissimi, sia ovviamente ai ragazzi che sono molto più pratici, ma anche a libri professionisti e imprenditori che possono già cominciare a comunicare e ad avere prodotti semiprofessionali o comunque assolutamente pubblicabili grazie solamente al loro smartphone.